ciao qui sempre io Alice Berti benvenuti in questo video che sto facendo in realtà super veloce questo vestito l'ho fatto io in quest'estate durante le mie brevi vacanze ha qualche problema ma non importa comunque faccio questo video super super veloce in realtà perché volevo aggiornarvi un po sulla situazione del nuovo libro che sto facendo per Bao Calypso che uscirà nella primavera del 2022 quindi andiamo allora a che punto sono con i lavori per Calypso al momento ho finito tutti gli storyboard ancora a fine luglio quasi tutta agosto la redazione in realtà è stata chiusa o comunque si alternavano le persone in redazione quindi ho mandato tutti gli storyboard definitivi a rientro dalle mie vacanze ai primi di settembre processo di realizzazione ho realizzato tutti gli storyboard per tutta la primavera e parte dell'autunno dell'anno scorso è stato un processo super lungo in realtà per quanto riguarda la storia perché la storia è molto complessa diciamo sostanzialmente è una storia d'azione una spy story quindi Calypso è una spia che fa un lavoro particolare che poi scoprirete di base seduce uomini che hanno fatto violenza sulle donne per poi ucciderli molto semplice solo che dentro la storia dentro questa macro storia diciamo ci sono praticamente vediamo il suo percorso psicologico in realtà perché vediamo come pian piano lei comincia a diventare sempre peggio perché ovviamente non è un lavoro normale quello che fa quindi vediamo praticamente il suo percorso nell'ansia e nella depressione temi molto allegri devo dire e in più analizziamo anche quella che è appunto la sessualità visto che lei appunto fa questo lavoro proprio appunto molto fisico e in contemporanea una relazione con una persona che è completamente diversa da lei perché Alessandro il coprotagonista è a sessuale e quindi questa cosa creerà dei problemi tra loro due scrivere questa storia è stato molto difficile perché ovviamente come sempre avevo un limite di pagine in cui stare che è quello editoriale solo che al di là di questo la storia di per sé era molto difficile ho voluto raccontare appunto esperienze come l'ansia e la depressione che non sono assolutamente temi facili da raccontare così come la sessualità perciò è stato molto difficile scrivere la storia molto difficile fare gli storyboard ho messo un sacco di tempo come se non bastasse ho deciso di ambientare la storia a roma perché disegnare fori romani colosseo cose super complesse architetture molto molto difficili è ovviamente una grandissima passeggiata come se già la storia non bastasse a complicarmi l'intera vita ma ok quindi sì è stato abbastanza difficile poi ho mandato gli storyboard inizio settembre li stiamo correggendo con i miei editori io intanto ho cominciato gli inchiostri dei primi capitoli ho cominciato a inchiostrare già i primi capitoli per il semplice fatto che erano già stati corretti dai miei editor all'inizio perché diciamo i primi capitoli eravamo riusciti a correggerli man mano che li facevo dopodiché appunto è arrivata l'estate e il mio lavoro è andato un po più a rilento perciò ho mandato semplicemente gli ultimi capitoli tutti insieme anziché uno alla volta come facevamo all'inizio anche perché poi comunque c'è stata la riapertura un po perché diciamo che per tutto l'anno per tutto l'inverno e la primavera dell'anno scorso eravamo quasi tutti in casa e quindi era più facile stare dietro alla lavorazione del libro ovviamente perché avevamo meno impegni meno uscite cose così e invece è stato un po un po più complesso insomma quindi al momento sto inchiostrando le prime tavole comincerò a colorarle a breve perché allora il processo che ho usato per neon brothers è stato di fare prima tutti gli inchiostri e poi tutti i colori ma ne sono venuta fuori pazza completamente pazza fare sempre la stessa cosa ogni giorno era un po ripetitivo e quindi questa volta ho pensato di fare diciamo un mix perciò fare tipo un tot di tavoli tipo 5 10 tavole inchiostro e poi fare almeno i colori piatti perciò adesso insomma dovrò decidere un po il nuovo procedimento che utilizzerò ma intanto inchiostro assolutamente le tavole perché è il primo step assolutamente quello va fatto quindi in questo mese di settembre sto inchiostrando le tavole di calypso la consegna l'ho a fine gennaio perciò penso che visto che poi ci vuole un mese di lavorazione tra mandare in stampa grafiche della redazione ultime correzioni eccetera penso che dovrebbe essere fuori in marzo salvo imprevisti perché poi ovviamente io cercherò come sempre di essere puntualissima spero di riuscire perché sono 188 pagine e sono alla numero 4 quindi ovviamente ci sono anche imprevisti editoriali che non riguardano me però se decidono di posticipare l'uscita del libro ovviamente non spetta a me quindi sì se tutto va bene in generale primavera 2022 uscirà il nuovo libro perciò spero di farcela voi state medicini ovviamente se mi seguite su instagram potete vedere in anteprima tantissime cose condivido piccoli work in progress sketch delle vignette così via oppure anche gli studi che ho fatto per questo libro perciò se volete seguire un po gli aggiornamenti diciamo in diretta sul mio profilo instagram trovate molti materiali e basta volevo avvisarvi inoltre di una cosa cioè che il prossimo weekend il 25 26 settembre ci sarà il treviso comic book festival la prima fiera che rifacciamo abbastanza tranquilli diciamo perché l'anno scorso tcbf non c'è stato veramente in presenza era tutto online perciò se volete venire io terrò un workshop il 25 settembre quindi sabato dalle ore 15 alle 17 è gratuito però vi dovete registrare sul sito event bright che vi metto in descrizione e è necessario esibire il green pass per per poter partecipare il workshop sarà su come realizzare una tavola di fumetto partendo dall'idea fino alla realizzazione finale visto che molte persone spesso mi dicono che voi magari volete realizzare qualcosa ma non avete idee qui è proprio quello che faremo cioè lavorare molto su come trovare l'idea adatta partiremo infatti da una canzone che porterete voi sceglierete voi realizzeremo un mood board che è una ricerca di idee di diciamo suggerimenti visivi con cui poi andremo a realizzare una tavola facendo prima lo storyboard e poi il definitivo perciò sarà veramente molto interessante non vedo l'ora e spero insomma che ci divertiremo e non vedo davvero l'ora di incontrarvi poi ovviamente se avete la vostra copia di neon brothers potete assolutamente portarle così posso farvi finalmente una dedica di persona e possiamo incontrarci parlare perciò se venite mi trovate lì a quell'orario e in fiera il resto dei giorni quindi il resto dei giorni cioè sabato e domenica mi trovate mi trovate comunque a traviso come il book festival niente sono molto molto felice di poter ricominciare un po' le fiere spero che questo inverno barra primavera ci porti anche altre fiere anche perché vorrei presentare appunto calypso di persona e mi manca tantissimo farle fiere potervi parlare di persona sono super felice che comunque voi veniate a raccontarmi le vostre opinioni sui miei libri sui social insomma che condividiate il mio lavoro eccetera eccetera però davvero di persona mi piacerebbe tantissimo poter tornare quindi speriamo che in primavera si possano rifare delle fiere e basta questo è tutto il prossimo video che pubblicherò sarà comunque inerente al workshop che faremo e vi mostrerò come ho realizzato una tavola vi farò vedere appunto quello che poi andremo a fare effettivamente al workshop perciò mi raccomando iscrivetevi al canale attivate le notifiche se vi è piaciuto questo video se vi interessa qualcosa in particolare commentate qui sotto e ovviamente lasciate un like nel prossimo video appunto vi mostrerò una tavola ad esempio che ho realizzato che faremo al workshop perciò vi aspetto Grazie a tutti Grazie.